Benvenuti a questo nuovo appuntamento qui nello spazio Goldspan, padiglione 7 di Fiera Cavalli, questa volta siamo con Matilde Gioli, volto notissimo televisivo e cinematografico, ma è qui in veste di appassionata di equitazione, è reduce da una passeggiata a cavallo questa mattina, ecco Matilde ci racconti dove sei stata e che impressioni hai avuto? Buonasera a tutti, sono parecchio emozionata perché è la mia prima fiera, quindi è un battesimo per me, infatti scusate sono arrivata proprio direttamente dalla passeggiata, il sorriso penso che dica tutto perché tutte le volte che sto a cavallo sto bene, stamattina è stata un'esperienza incredibile perché sono abituata a fare trekking e passeggiate in scenari naturali come colline, montagne, mare, ma non avevo mai percorso un'ippovia urbana e oggi è stata la prima volta, è stato a Verona che è una città che amo molto ma dove non sono ancora riuscita a passare abbastanza tempo, però sono appassionata della storia di Verona e oggi con i cavalli siamo proprio entrati in città, siamo stati lungo l'Adige ed è stato molto emozionante, la passeggiata è durata tre ore che sono volate e mi sono già messa d'accordo con le ragazze che mi hanno accompagnato per tornare perché è stata incredibile, tra l'altro consiglio a tutti di fare questo giro, questa ippovia urbana all'interno di Verona, è un'esperienza sensazionale. Bene, proveremo noi stessi a ripercorrerla, ecco ma cominciamo dall'inizio di questa tua passione, com'è nata la passione per i cavalli? La passione per i cavalli nasce non tanto tempo fa, nasce per via di un film che ho interpretato, I moschettieri del re di Giovanni Veronesi, dove dovevo interpretare, ho interpretato questa ancella che a un certo punto acchiappa un cavallo e fugge al galoppo nei boschi, galoppa, salta tronchi alla cross country e cade da cavallo. Siccome sono una persona orgogliosa e mi è stata proposta la controfigura, ho detto beh io preferirei imparare e farlo io, quindi per una serie di mesi sono stata a contatto quotidiano con i cavalli e ho imparato attraverso il cinema, quindi non alta scuola, salto, dressage, quelli che fanno cinema con i cavalli, stuntman eccetera eccetera. Mi hanno insegnato in poco tempo tante cose, quindi sicuramente non ho fatto in tempo a stratificare, quindi non è che ancora oggi non posso dire di saper stare bene in sella, però mi sono appassionata tantissimo, comunque mi sono fatte le mie cadute in costume del 1600. Esatto. No, quelle erano volute ed erano calcolate, poi ne ho fatte tante anche non calcolate che mi hanno insegnato molto. Sta di fatto che finito il film e finita la relazione con i cavalli sono tornata a casa e ho sentito un vuoto immenso e ho capito che avevo trovato la mia passione e quindi da quel momento non ho più lasciato i cavalli. E hai saltato tu quell'ostacolo in scena oppure poi lì c'è voluto la controfigura? Ci siamo divisi in due, nel senso che la scena è stata che lui stava sul cavallo mentre il cavallo saltava e io ero aggrappata alla sella e correvo insieme al cavallo, lui saltava e io mi lasciavo cadere, quindi di fatto non sono caduta dal cavallo ma una caduta dal frisone l'ho fatta. Bene, spero senza conseguenze. No, quella volta no. Molto bene. Senti, ecco, è nata questa passione ma ci hai raccontato delle passeggiate, hai provato o ho intenzione poi di provare anche qualche competizione? Sappiamo che esistono tante discipline, dal salto ostacoli e qui ne vediamo la massima espressione. Discipline western, c'è qualcosa dell'attività agonistica che ti attira in questo momento? Chiaramente arrivando dallo sport agonistico io ho fatto per anni nuoto sincronizzato agonistico quindi ho una mentalità sportiva e competitiva sana, è ovvio che più conosco del mondo dei cavalli e frequentando un maneggio dove oltre al trekking e alle passeggiate c'è anche l'alta scuola sia di salto sia di dressage e adesso anche di cutting e reining è ovvio che curiosa come sono sto iniziando a ficcare il naso un po' in tutte le discipline, salto parliamo di, ho fatto delle crocette giusto per capire, lo stesso vale per il dressage e per le discipline diciamo più americane, dopo quattro anni io ancora non ho un assetto corretto, paradossalmente quando ho iniziato ad andare a cavallo ero convinta di essere capace, più vado avanti più mi rendo conto di non essere capace di aver bisogno di ancora tanto tempo, però sono pronta, mi sto impegnando e se a breve magari salirò di qualche gradino perché no, qualche competizione ovviamente amatoriale. Quindi in questo momento fai soprattutto passeggiata, la parte relax è quella che... Sì, in questo momento mi faccio dare una mano con delle lezioni in campo, di lavoro in piano, veramente per lavorare sull'assetto perché a me mi hanno un po' buttata su per il film alla buona e sì è vero che so galoppare, so saltare i tronchi e quant'altro, però poi se uno esperto mi vede a cavallo inorridisce perché l'assetto non è bello, quindi sto lavorando su quello e poi la maggior parte del tempo fuori, in passeggiata, anche in solitaria, anche 3-4 ore da sola col cavallo dove boschi, guardiamo i fiumi, un rapporto molto selvaggio che a me piace tanto. Ma ho letto che avevi un cavallo a Milano, hai dei cavalli tuoi? Allora sì, sono orgogliosissima di questo argomento perché insomma voi siete tutti esperti da anni, ho iniziato da poco, ho comprato il mio primo cavallo ed è stato bellissimo, è un puledro, ha appena fatto 3 anni, è spagnolo, stallone e lo sta educando il mio ragazzo che lavora sui puledri ma sto iniziando a montarlo anch'io, l'ho scavalcato quindi sono stata la prima a salirci sopra e è stata un'emozione bellissima e quindi ho appena iniziato un rapporto spero lunghissimo con Nadador che è appunto il mio grigio. Ecco, in attesa che il tuo grigio diventi adulto e possa darti tante soddisfazioni c'è nel frattempo un cavallo anche non tuo che ti è rimasto nel cuore? Cerco di montare più cavalli possibili, anche quelli che sconsigliano perché poi chiaramente ho la testa dura quindi se uno mi dice no quello è meglio che lo lasci stare perché butta giù tutti io allora non vedo l'ora di salirci. Penso che montare tanti cavalli sia utile per capire sempre meglio, per migliorarsi. Io mi affeziono molto, adesso non posso dire casi umani, diciamo ai casi equini e quindi è quei cavalli che hanno bisogno di un pochino più di attenzione. Ultimamente sto montando un trotter che è arrivato, insomma ci è stato portato e l'hanno lasciato per fare le passeggiate con un carattere molto complicato, addirittura non permetteva di entrare in box al cavaliere e posso dire con orgoglio che sto iniziando a entrare un po' nelle sue grazie, adesso lo sto montando e dopo un inizio con tante sgroppate fuori e poca accettazione di me sopra di lui, adesso abbiamo trovato la pace ed è una sensazione bellissima. Bene, poi c'è già galoppato perché galoppare con dei trottatori è un po' difficile. Allora il mio sogno è farlo rompere al galoppo, chiaramente per adesso sto cercando solo di rimanere in sella perché quando li partono i cinque minuti fa il rodeo, però ci sto facendo, lo sto allungando al trotto ed è molto interessante perché io i trotter non li avevo mai montati, è interessante lanciare un trottatore al trotto veloce. Ieri Clemente Russo che abbiamo il pugile, il vice campione olimpico ci ha detto che i cavalli sono la sua malattia, sei stata contagiata anche tu quindi? Io sono già ammalata da qualche cavallo fa, diciamo sì. E non intendi guarire mi pare di aver capito. No, assolutamente no. Ecco, a proposito di questo tu reciti in una celeberrima serie televisiva nei ruoli di una dottoressa, ti volevo chiedere se come attrice, come esperta di cinema, di televisione c'è qualche film, qualche serie ambientata nel mondo dei cavalli che ti ha particolarmente colpito e casomai nella quale ti sarebbe piaciuto recitare? Ma allora adesso ci sono delle serie bellissime su Netflix che guardo, come Yellowstone per esempio, che guardo con estremo piacere e ovviamente con l'invidia degli attori che vi hanno partecipato. Adesso da poco è uscito al cinema a Brado, il film di Kim Rossi Stewart che ho anche incontrato, purtroppo io poi dovevo fare un altro film ma insomma ci eravamo incontrati per questo film e sono curiosissima di andarlo a vedere e sono felice che ci sia un film italiano che parla proprio di questo, dopodiché sono legatissima alla tradizione di Sergio Leone e quelli sono i film dei cavalli che mi piacciono. Ecco per concludere questa nostra breve conversazione ci hai detto che è la prima volta che sei Fiera Cavalli, forse anche da non tantissimo tempo, da poche ore, ecco che impressione ti ha fatto questa marea di appassionati? Allora io non penso che tu abbia notato quando ci siamo incontrati poco fa che insomma sembrava un po' un pesce lesso, cioè occhi spalancati, bocca aperta perché a parte che c'è una quantità di persone, ciao a tutti, c'è una quantità di persone incredibile e questo mi rincuora perché vuol dire che c'è una passione incredibile per i cavalli perché solo quando ci entri capisci poi quanti siamo e io devo ancora vedere tutto quindi sono in fibrillazione totale, sono felice anche di essere riuscita a fare discorsi sensati perché non vedo l'ora di correre in giro per la fiera. Va bene allora ti lasciamo esplorare la fiera visto che c'è tanto da vedere e il tempo è prezioso, grazie davvero a Matilde Gioli per essere stata con noi. Grazie a voi, buona continuazione.